Finalmente dopo la vagonata di DM, email e commenti che ho ricevuto da tutti voi e per questo vi ringrazio per la fiducia, ho deciso di parlare delle Monolith M1060, delle cuffie magnetoplanari che a detta di molti sono cuffie che possono fare miracoli se le utilizziamo per fare mix e mastering. Ora è una decina di giorni che ci sto lavorando, le ho rodate ovviamente per una decina d'ore mandandogli un po' di musica in playback a volume non troppo sostenuto ma nemmeno troppo basso e devo dire che queste cuffie hanno molto da dire. Innanzitutto mi sembra giusto dire due parole su cosa significa magnetoplanari e che cosa cambia tra delle cuffie magnetoplanari e delle cuffie tra virgolette dinamiche come quelle più tradizionali. Allora di base la cosa bella di queste cuffie e di tutte le cuffie che fanno parte di questa diciamo generazione quindi le Audiz, le Hi-Fi Man e tutti i modelli simili che poi si rifanno un po' tutti le Audiz, quello che cambia è praticamente che hanno invece della classica membrana dinamica a cono hanno un driver, un diaframma di materiale conduttivo completamente piatto molto grosso interposto tra due magneti e quindi una sorta di sandwich che appunto poi genera l'energia meccanica che fa vibrare questo trasduttore, questa membrana per appunto farci sentire poi il suono come lo sentiamo. Il vantaggio di questo sistema che io trovo molto simile concettualmente a quello di un microfono a nastro quindi una sorta di materiale sospeso tra due magneti che poi vibra per quello che riceve da due magneti è che ci permette di avere una risposta sui transienti molto più naturale e realistica di quella della classica membrana dinamica. Ovviamente questo dipende dalla qualità, dipende dalle dimensioni, dipende da un sacco di fattori però fatto sta che quando noi indossiamo una cuffia magnetoplanare quello che sentiamo subito è un suono molto più realistico quindi fondamentalmente molto più lineare ma soprattutto molto fedele sui transienti quindi sugli attacchi, sulle botte che spostano suono in poco tempo. Quando ci arrivano le monolith M1060 ci arriva una scatola che si presenta molto bene con tutti i dettagli che poi apriamo e contiene una custodia bellissima con la chiusura lampo che contiene le cuffie e ci permette anche di portarcele in giro senza distruggerle. E soprattutto si nota subito che c'è un odore che non è il classico odore di cinese quando c'è di mezzo le copelle come in queste cuffie ma un odore che effettivamente promette molto bene. So che questa cosa non ha nessuna importanza sul suono però onestamente io quando mi arriva un paio di cuffie che puzzano di petrolio insomma che hanno quell'odore cheap che ci fa capire che è una roba veramente cinese un po' mi dà fastidio. Devo dire che comunque queste sono cuffie che averle vicino non irrita nemmeno a livello olfattivo. Nella loro custodia troviamo il loro jack che è possibile attaccare appunto alle cuffie vere e proprie cioè l'indicatore left e l'indicatore right su ognuno dei due jack che poi chiaramente creeranno la sorgente stereo che andiamo a ascoltare e poi dall'altra parte abbiamo il jack che va attaccato alla sorgente che può essere una scheda audio, un laptop, un telefono oltretutto jack piccolo che con l'adattatore diventa jack grande, abbastanza standard. Il left e right su queste cuffie è segnato soltanto sui jack e vi dico che la posizione corretta è questa quindi con i padiglioni più stretti davanti e la parte più larga dietro. Come specifiche tecniche abbiamo il driver che è dichiarato 106 mm che è tantissimo, risposta in frequenza dai 10 ai 50.000 Hz quindi diciamo una risposta che va ben oltre la soglia dell'udibile poi chiaramente non è tanto indicativo perché bisogna anche vedere quante lineare questa risposta in tutto l'intervallo però comunque il fatto che arrivano a 50.000 Hz ci fa capire che sono cuffie che sicuramente nella soglia udibile non andranno in distorsione se hanno fatto bene quello che dovevano fare no? E questa cosa quindi ci garantisce una fedeltà sulle alte e sulle basse che dovrebbe essere strepitosa. L'impedenza dichiarata è di 50 ohm per quello che posso dire per quello che ho provato queste cuffie vanno benissimo su qualsiasi preamplificatore di qualsiasi scheda audio hanno tutto il volume di cui avete bisogno e sono rimasto sorpreso anche di come suonino bene su qualsiasi preamplificatore di portatili quindi di laptop ma anche sul telefono quindi per ascoltare una cosa magari già masterizzata già normalizzata di volume perché chiaramente se è una roba che non ci avete messo nemmeno un limiter sarà difficile sentirla con ogni cuffia se ascoltate dal telefono o qualsiasi dispositivo che non ha un sopra amplificatore però comunque per sentire roba su spotify quindi normalizzata un LUFS anche abbastanza basso intorno ai meno 14 meno 12 comunque vanno molto bene su qualsiasi sorgente e quindi rappresentano anche una reference un ascolto per controllare i nostri lavori anche su diversi dispositivi rispetto alla classica scheda audio con cui lavoriamo. ora che abbiamo parlato di tutti gli aspetti tecnici che sono utili fino a un certo punto iniziamo a parlare dell'esperienza con queste cuffie e il loro suono appena ho indossato questa cuffia anche prima del rodaggio ma soprattutto dopo devo dire che ho notato una cosa che non ho notato in nessun'altra cuffia con cui lavoro ovvero il fatto di sentire un ambiente molto simile alla mia regia sembrava veramente di ascoltare con le focal poste alla larghezza qui le vedete e quindi danno una risposta veramente veramente wide e ci fanno sentire molto bene gli ambienti i riverberi e le stanze degli strumenti e quindi devo dire che rispetto a una cuffia normale la cosa che mi è piaciuto tanto di questa cuffia è che non è il classico ascolto dove sentiamo un piano quindi left right centro ma qui sentiamo proprio un cerchio cioè un ascolto che sembra quasi binaurale mi ricordo che quando le ho scartate il primo giorno di utilizzo perché me le ha regalate la mia ragazza per il compleanno c'era Jesse a casa che è uno dei fonici di cui mi fido di più in assoluto le ha provate e lui possiede anche le audiz mi ha detto che la cosa assurda di queste cuffie da una persona che è comunque abituata a una cuffia molto più costosa è che sembra che c'è una dsp dentro perché effettivamente c'è proprio un ascolto tipo quando utilizzate sienna di acustica audio cioè sembra proprio che emula una stanza io stesso effettivamente ascoltandoci sento un ascolto molto simile a quello della mia regia quindi effettivamente sono una vera e propria regia portatile le cuffie con cui ho lavorato di più negli ultimi mesi come diciamo check finale del mix sono state le Sennheiser HD 560S ma ancora di più le Audio Tecnica M50X queste qua che ho sempre vicino e in particolare le Audio Tecnica M50X ormai per me sono la mia reference per sgamare tutto quello che posso aver sbagliato perché magari mi sono adagiato in un ascolto appunto in regia che sicuramente è più comodo e meno opprimente ecco sulle M50X quello che io sgamo molto e sempre di più man mano che imparo a conoscerle è quando diciamo abbiamo troppi sub, troppe basse che magari non sono state dosate proprio nel migliore dei modi ma soprattutto quando c'è un elemento troppo harsh e troppo brillante su queste cuffie qui devo dire che la sensazione è simile sulle altre nel senso che quando una cosa è troppo chiara su queste cuffie me ne accorgo subito e nonostante tutto devo dire che all'ascolto di tanti dischi che mi piacciono, che adoro lo trovate un po' scurette ma in realtà non è uno scuro che dà fastidio non viene percepito come una mancanza di definizione perché a queste cuffie di sicuro non manca la definizione però effettivamente il fatto di come sono costruito, il fatto che sono magnetoplanari quindi con una tecnologia totalmente diversa magari dalla classica membrana cono effettivamente ci dà un ascolto un po' più chiuso che ripeto io l'ho trovato molto simile a come traduce uno strumento reale un microfono a nastro quindi una curva più lineare, più naturale e anche molto meno faticosa che chiaramente poi comporta una sensazione di alte, meno aggressive, meno abrasive ma allo stesso tempo anche se leggermente chiuse, molto molto intellegibili e soprattutto che danno molto buon senso per capire quando sono troppe e quando sono troppe poche soprattutto se abbiamo una referenza a fianco sulle basse sono veramente belle, comunque sono cuffie che ho trovato molto lineari in generale anche sulle medie, medio basse, medio alte l'unica cosa che ho notato, ma questo potrebbe essere anche perché ancora non le ho prese bene ancora le sto conoscendo, è che sulle basse sono un po' più forgiving delle altre cuffie che uso in particolare dell'audiotecnica forgiving nel senso che ci lasciano passare delle cose magari ci portano a esagerare un po' e poi diciamo i mix e i master che ho provato a fare qua sopra molto spesso magari in regia e soprattutto in macchina mi suavano più bumidi come mi aspettavo quindi diciamo che sono cuffie talmente gradevoli ma questo succede anche con i monitor quando diciamo ci sentiamo molto confidente con quello che stiamo facendo sono cuffie che sono talmente gradevoli che a volte ci portano a spingere un po' di più di quanto dovremmo però allo stesso tempo ho riaperto dei master su cui non ero tanto convinto che magari avrei voluto un po' più caldi un po' più chiusi e nonostante sono cuffie che io percepisco come leggermente scure quando ho sentito quei master lì sopra paragonati con reference che per me erano perfetti ho sentito subito che effettivamente avevo schiarito un po' troppo quindi ripeto sono cuffie che sulle alte, sulle medio alte, sulle medie in generale sono top sulle basse ci danno una sensazione veramente stupenda di quello che sta succedendo però sono anche cuffie che certe volte proprio per il fatto che sono gradevoli ci possono portare a esagerare un pochino però ripeto se avete un ascolto da abbinarci con cui fare controlli che sia la macchina, che sia una cassa bluetooth, che siano le audio tecniche M50X sgamate subito questa cosa e comunque ripeto è una cosa che capita molto spesso anche con i migliori ascolti ora detto questo vorrei parlare anche del vero punto di forza di queste cuffie che uno non si aspetterebbe mai proprio quando le vede allora sembrano cuffie enormi vi faccio vedere come mi stanno addosso vedete che sono cuffie che effettivamente esteticamente sono enormi ma nonostante tutto sono molto leggere cioè nel senso che hanno il loro peso ovviamente hanno la loro massa ma comunque il trasduttore magnetoplanare è molto più leggero di una classica membrana cono e quindi questo giova al peso delle cuffie infatti quando le prendiamo ma soprattutto quando ce le mettiamo in testa abbiamo una sensazione veramente che non ci aspettiamo nel senso che sembra di avere una nuvola sono veramente comodissimi oltretutto anche i pad che sarà ecopelle suppongo sono veramente comodi ci avvolgono le orecchie e ci danno questa sensazione di poterci lavorare anche per più ore consecutive senza mai stancarci cosa che non potrebbe mai succedere magari con le audio tecniche M50X ma anche con le Sennheiser perché comunque sono cuffie che stringono un po' di più sono un po' più opprimenti invece queste sono cuffie che sono veramente si adattano veramente bene alla forma della testa a come appunto il pad aderisce all'orecchio e soprattutto sono apertissime e respirano veramente tanto quindi sono cuffie che effettivamente sono fatte secondo me per l'utilizzo molto serrato sul fatto che sono così aperte mi sento anche di avvisarvi che se lavorate in ambienti che sono parecchio rumorose tutti i rumori che avrete intorno li sentirete cioè se io sento una cosa a volume alto su queste cuffie e qualcuno mi parla da 3-4 metri io sento quello che dice perché chiaramente sono cuffie aperte non sono cuffie pensate per isolare il rumore e quindi chiaramente per quanto comode per quanto bello vi beccate anche tutto il rumore che ha intorno quindi comunque sono cuffie ma sono cuffie pensate per lavorare in un ambiente abbastanza silenzioso insomma detto questo io per questi primi giorni di utilizzo posso dire che questo è un prodotto veramente valido sicuramente è una cuffia adattissima a chi appunto non ha una stanza trattata alla perfezione con dei monitor comunque calibrati bene pensati bene per quella stanza è una cuffia molto confortevole sicuramente ottima per chi vuole lavorare prevalentemente in cuffia è una cuffia che secondo me è accoppiata con le audio tecnica è perfetta questa secondo me è la combo perfetta veramente tutte le cose che ho provato a fare con questo e poi che ho cercato con le audio tecnica M50X perché comunque volevo mettermi nei panni di una persona che lavora in cuffia prima di parlarne devo dire ecco che con questi due modelli coprite tutti i possibili disastri che potete fare quando mixate quindi insomma per la fascia di prezzo queste sono cuffie che trovate intorno ai 300 euro e a volte un po' di più a volte un po' di meno in base alle offerte in base a come cambiano i prezzi visto il periodo storico che stiamo vivendo comunque insomma per 300 euro 250 se le trovate scontate questa è una cuffia che veramente vale almeno il triplo di quello che costa secondo me quindi per me consigliatissima oltretutto diciamo non sono il primo che ne parla bene comunque ho visto anche gli altri video ho visto che Francesco Di Riberiani ne parla bene le utilizza molto ho visto che Marco Zanoni di Logic Pro X Italia ne parla molto bene quindi comunque insomma mi rendo conto che anche voi che seguite un po' il mio canale e tutti gli altri canali che ci sono intorno volevate un parere anche mio per avere insomma il triple check diciamo per capire se effettivamente queste fossero un buon investimento e secondo me avevano ragione tutti quelli che ne hanno parlato bene queste sono un ottimo investimento sono cuffie che sono veramente adatte a tutti oltretutto l'ho testata su diversi generi prevalentemente musica suonata perché sapete che a me piace la musica suonata ma anche sulla trap anche sulla roba più pop elettronica e tutto quanto sono cuffie che rispondono veramente bene il soundstage è una roba veramente impressionante che non ho sentito nemmeno su cuffie che comunque costano anche un po' di più sono sulla stessa fascia di prezzo tipo le hollow audio s4x che io personalmente non sono cuffie che adoro perché trovo molto scavate sulle medie e almeno per il mio modo di ascoltare musica non le reputo una referenza affidabile anche se altre persone dicono il contrario sulle Sennheiser HD600 che mi piacciono ma non mi sono mai trovato bene sul dosaggio dei volumi soprattutto delle chitarre e delle voci o degli strumenti acustici però chiaramente anche lì ottima cuffia però devo dire che queste sono quelle che mi hanno stupito di più e comunque sono contento di averle prese di sicuro le terrò le sto utilizzando tutti i giorni e la cosa veramente bella di queste cuffie è che effettivamente se siete tipi che vanno molto in giro è una cuffia che potete portarvi dietro per ascoltare come siete abituati a ascoltare anche in ambienti che magari non conoscete bene quindi di sicuro la potremo definire come ho detto prima e come vedete nel titolo del video una regia portatile fatemi sapere nei commenti se avete provato le monolith m1060 e che ne pensate se ci sono modelli che vi piacciono di più vi lascio anche i link in descrizione per acquistarle a miglior prezzo nel caso vogliate regalarvele per uno dei prossimi eventi oltretutto si avvicina al black friday quindi spero che faranno un bello sconto per farvele comprare a poco io come al solito vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se non avete già fatto inoltre se volete migliorare il vostro livello con le produzioni con i mix vi consiglio di dare un'occhiata al mio patreon in cui aggiungo delle video lezioni dalla durata di un'ora e vi faccio vedere come ho mixato per filo e per segno brani per i miei clienti quindi lì trovate un po' tutto quello che io posso condividere nella mia esperienza di mixatore e chiaramente tutto verrà analizzato in modo molto più esaustivo rispetto a youtube è chiaramente una piattaforma dove un po' bisogna sbrigarsi quando si parla delle cose e vabbè io vi saluto direi che per oggi è tutto love love